L'ultima volta che lo abbiamo visto nel ruolo di uno dei capi storici della Curva Sud è stata questa, a Roma, al collegio di arbitrato del CONI in quel maledetto 31 luglio. Poi Franco Iannuzzi è rimasto in silenzio e in disparte a osservare per smaltire la botta dell'esclusione dalla Serie B, per capire, per riflettere. Uno ci rimane male perché abbiamo conquistato quella salvezza sul campo e quindi ancora devo assorbire il colpo. Però mercoledì prossimo potresti tornare. Piano piano, purtroppo questa è la situazione, non si può fare altrimenti, quindi si deve andare avanti. Io sono tifoso della velina soltanto, quindi con calma e con tranquillità siete al mio posto che ho occupato sempre. Stai valutando di tornare? Sì, sì, ma perché ripeto, ormai diciamo, ci siamo rimasti un pochettino tutti quanti male, perché, te l'ho detto centomila volte, ho parlato con te, perdere la salvezza in quel modo veramente fa male. Quindi dopo tanti sacrifici, dopo nottate vissute sull'autostrada, capodanni e Natale a Trapani, quindi vedersi sfuggire qualcosa, perché veramente per una fiduzione abbiamo perso una categoria molto molto importante. Come vedi la squadra in questo momento, insomma la sconfitta di domenica scorsa per molti è stata salutare, può essere salutare, ovviamente si capirà dopo la gara di domenica con il Lanusei. Ma noi dobbiamo tenere pazienza, perché a parte che la squadra è stata costruita in breve tempo, poi diciamo che il campionato di serie D è particolare, bisogna conoscerlo in punto, quindi bisogna tenere pazienza, però sono convinto che alla fine giusteranno tutto, perché ripeto, tornare di nuovo nel campionato professionista è molto importante, sia per questa città, sia per la provincia di Avellino. Di certo le polemiche ad Avellino al di là della categoria restano e come? Molte polemiche, anche ultimamente delle polemiche, lasciatelo lavorare, lasciatelo lavorare, ha bisogno di tempo, bisogna valutare bene la situazione, ma ci sono infatti anche tra i diffusi ci sono molto tecnici, molta gente che si vogliono improvvisare anche da Presidente, bisogna avere pazienza.